Con il filato bianco e l'uncinetto numero 4 avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Realizzate le 6 maglie basse, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. A questo punto con un filo di diverso colore segniamo l'inizio del giro e continuiamo lavorando 2 maglie basse su ogni punto sottostante fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse. Terminato il giro con 12 maglie basse continuiamo con 1 maglia bassa, 1 aumento, 1 maglia bassa, 1 aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse continuiamo con 2 maglie basse, 1 aumento, 2 maglie basse, 1 aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 24 maglie basse continuiamo con 3 maglie basse, 1 aumento, 3 maglie basse, 1 aumento fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 30 maglie basse continuiamo con 4 maglie basse, 1 aumento, 4 maglie basse, 1 aumento fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 36 maglie basse continuiamo realizzando 5 maglie basse, 1 aumento, 5 maglie basse, 1 aumento fino alla fine del giro per un totale di 42 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 42 maglie basse continuiamo con 6 maglie basse, 1 aumento, 6 maglie basse, 1 aumento fino alla fine del giro per un totale di 48 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 48 maglie basse ripetiamo 48 maglie basse per i prossimi 5 giri. Terminati i 5 giri di 48 maglie basse adesso cominciamo le diminuzioni, quindi 6 maglie basse, 1 diminuzione, 6 maglie basse, 1 diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 42 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 42 maglie basse continuiamo con 5 maglie basse, 1 diminuzione, 5 maglie basse, 1 diminuzione per un totale di 36 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 36 maglie basse continuiamo con 4 maglie basse, 1 diminuzione, 4 maglie basse, 1 diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 30 maglie basse continuiamo con 3 maglie basse, 1 diminuzione, 3 maglie basse, 1 diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro. Dopo aver imbottito continuiamo con 2 maglie basse, 1 diminuzione, 2 maglie basse, 1 diminuzione per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse ripetiamo 18 maglie basse. Terminato anche il secondo giro di 18 maglie basse a questo punto lasciamo in sospeso il nostro lavoro, prendiamo il filato arancione e realizziamo un'asolina, infiliamo l'uncinetto nel primo punto della prima riga da 18 maglie basse. Agganciamo il filato arancione, tiriamo e lo facciamo passare nel punto. Infiliamo l'uncinetto nel punto a fianco, agganciamo il filato arancione, tiriamo e lo facciamo passare nel punto e poi nella solena. Come se stessimo realizzando una maglia bassissima. Infiliamo l'uncinetto nel punto a fianco, agganciamo il filato arancione, tiriamo e lo facciamo passare nel punto e poi nella solena. Infiliamo l'uncinetto nel punto a fianco, agganciamo il filato arancione, tiriamo e lo facciamo passare nel punto e poi nella solena. Continuiamo questo procedimento fino alla fine del giro. Arrivati alla fine della riga possiamo tagliare il filato arancione. Riprendiamo il nostro lavoro e realizziamo una maglia bassa, una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse ricominciamo con gli aumenti e realizziamo una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse continuiamo con 2 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 24 maglie basse a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima. Tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. Prendiamo il filato grigio e realizziamo una solina. Ci andiamo ad agganciare in un punto qualsiasi dell'anello magico di 6 maglie basse. Realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa più un'altra maglia bassa nello stesso punto. E continuiamo a lavorare 2 maglie basse su ogni punto sottostante per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse chiudiamo il giro con una maglia bassissima, tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. Prendiamo di nuovo il filato bianco e realizziamo un'asolina. Ci andiamo ad agganciare in un punto qualsiasi del giro con 12 maglie basse in grigio. Realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa. Nel punto a fianco realizziamo 2 maglie basse nello stesso punto. E continuiamo il giro con una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse, continuiamo con 2 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro. terminato il giro con 24 maglie basse ripetiamo 24 maglie basse per i prossimi 5 giri terminati anche i cinque giri di 24 maglie basse a questo punto appianiamo il nostro lavoro con due maglie bassissime e adesso possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro avviamo un anello magico di 6 maglie basse realizzate le 6 maglie basse tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio a questo punto con un filo di diverso colore segniamo l'inizio del giro e continuiamo lavorando due maglie basse su ogni punto sottostante fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse terminato il giro con 12 maglie basse continuiamo con una maglia bassa un aumento una maglia bassa un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro terminato il giro con 18 maglie basse appianiamo il nostro lavoro con due maglie bassissime tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro prendiamo il filato arancione e realizziamo una solina ci agganciamo in un punto qualsiasi del giro con 18 maglie basse realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa una maglia bassa nel punto a fianco un aumento e continuiamo così fino alla fine del giro due maglie basse un aumento due maglie basse un aumento per un totale di 24 maglie basse nel giro arrivati alla fine del giro con 24 maglie basse continuiamo con 3 maglie basse un aumento 3 maglie basse un aumento fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse nel giro terminato il giro con 30 maglie basse appianiamo il lavoro con due maglie bassissime e a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro con il filato arancione avviamo un anello magico di 6 maglie basse realizzate le 6 maglie basse tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio continuiamo realizzando due maglie basse su ogni punto sottostante per un totale di 12 maglie basse nel giro terminato il giro con 12 maglie basse continuiamo con una maglia bassa un aumento una maglia bassa un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro terminato il giro con 18 maglie basse appianiamo il nostro lavoro con due maglie bassissime a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.